ciao allora ok ho trovato anche tre buste di x e y scontro primordiale queste mi sono costate 4 euro e 50 ciascuna in edicola ok ora per prima apro questa e spero spero di trovare oh mio dio ok scusate codice 2 3 2 niente non sento niente vabbè allora mentine snizzle carino hoppip fletchling cloncher nazzle braviari si scudo di shield on la reverse fungus e toxic rock non è neanche oro però non ce l'ho quindi quindi va bene quindi va bene ok ora vediamo di aprire questi di scontro primordiale che ce ne ho due con con oddio che ho kyogre 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 e l'altra con graudon ok prima apriamo questa con kyogre kyogre o kyogre o come cavolo si dice che scema devo tenerla beh vabbè c'ho l'altra ok il codice 123 niente 12 non c'è niente di queste non credo neanche di averle mai aperte quindi per me sono tutte nuove sfial che carino lottad biduf stadio oh che carino volbit che bellino dublade 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 parere del professor birch ok lanterna oh mio dio una half art di mediciam perché ho scoperto da poco c'è da poco da un po che queste sono le half art mediciam bellissimo wow e un'altra alfa di maccargo porca miseria non è sempre rara non è oro però porca miseria e poi sfial c'è no vabbè wow wow c'è ragazzi va bene ok mi piacciono queste carte poi questa con graudon aspettate che questa la taglio perché vorrei conservare la bustina ok il codice 123 12 oh mio dio è ruvida è ruvida che bello basta drilbur skitty che carino raihorn sfial di nuovo lottad recupero di energia grazie a usia lio che bello poi fune di fuga fune di fuga fune di fuga che forte vabbè la reversa è raihorn no rai don scusate e oh vabbè ok doppio passo di max vabbè e vediamo non è solo una full art full art olo così vabbè la tengo giusto per ma mi sarei piaciuto di più se fosse stato un pokemon ultimo bustina con chi ogre qua la taglio per aprirla perché vorrei conservare la bustina che credo di non avere sì beh però cavolo ok perfetto allora il codice 1 2 3 1 2 no niente questa non è né ruvida né liscia niente vabbè clamperl che non ce l'ho nidora un maschio no femmina scusate oh che carina con le bacche tangela o tangela il lumise oh che fa coppia con walbit che ho trovato prima slugma nidorina oh carina e mare mosso ok oh mio dio cos'è buffalant non credo di averlo mai visto questo pokemon nel videogioco va bene la reversa oh che bella flygon che bella bellissima e brellum carina carina non è niente di che però dai carine carine vabbè ok allora la prossima ciao 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 ciao